Lega Pro il Gubbio pronto per lo scontro playoff di lunedì sera con la reggiana Maggi verso la conferma del 3-4-1-2 visto con il Mantua, rientra Romano dal primo minuto lunedì sera speciale a fuorigioco dalle ore 20.45 su TRG. Serie D, il Città di Castello impatta 1-1 lo scontro diretto salvezza con la Torres, vede sempre più da vicino la retrocessione, K.O. anche il Trestina, Sant'Eodoro, Volley, Sir Perugia, derby con la Civitanova nella semifinale di Champions. Gentili telespettatori, a voi una cordialissima buona serata, benvenuti con l'informazione sportiva. Partiamo dalla Lega Pro, seduta pomeridiana per il Gubbio che lunedì sera affronterà nel posticipo della 36esima giornata la reggiana al Mapei Stadium con le due squadre divise da soli quattro punti tra la quinta e la sesta posizione. Tutti a disposizione per Maggi, compreso Rinaldi, a riposo precauzionale ieri e tornato oggi a pieno regime in gruppo. Al momento l'ipotesi più probabile di formazione resta il 3-4-1-2 davanti a Volpe, linea difensiva formata da Marini, Rinaldi e Piccini, centrocampo con Valagussa a destra, Zanchi a sinistra, Romano e Croce centrali con Casiraghi, trequartista e tandem d'attacco formato da Ferri, Marini e Ferretti. Scalpita per un posto in mediana anche Giacomarro, in ribasso invece le quotazioni di Calombo. Sempre in auge anche l'ipotesi del 4-3-1-2. Domani altra seduta pomeridiana, domenica di Pasqua, rifinitura mattutina e lunedì di prima mattina. La truppe Ugubina traslocherà in Emilia e lunedì sera dalle 20.45 su TRG Canale 11 e in contemporanea su il regime IT Radio, appuntamento speciale con fuorigioco per seguire in tempo reale Reggiana Gubbio. Altra seduta mattutina per il Perugia, atteso lunedì alle 15 al duello casalingo con l'Ascoli, valido per la 36esima giornata di Serie B. Sarà di nuovo 4-3-3 per Bucchi con il recuperato Brignoli favorito su Rosati per il ruolo di portiere. In difesa Out lo squalificato Volta e l'infortunato del Prete. Agiranno da destra a sinistra Fazzi, Belmonte, Monaco e Di Chiara. Mentre a centrocampo possibile il terzetto formato da Acanfora, Dezzi e Brigli. Anche se scalpitano sia Gnaoré che Ricci. In attacco rientra Guberti dal primo minuto sulla sinistra con Di Carmine, punta centrale, Mustacchio favorito su Nicastro con la corsia destra. E spostiamoci ora in Serie D, dove ieri si è disputato il turno infrasettimanale, valido per la quart'ultima giornata di campionato. Il punto sulle Umbre in questo servizio. Il Baratro è sempre più vicino. Il Città di Castello non riesce a vincere neppure nello scontro diretto con la Torres nel turno infrasettimanale della 31esima giornata del Girone G di Serie D. Una partita che era considerata l'ultimo appello per alimentare la speranza play-out ed invece l'1-1 finale scontenta di fatto ambedue le compagini. Era proprio il Città di Castello a portarsi in vantaggio a 15 dalla fine. Il no entrato franzese faceva il vuoto, fu la finistra appoggiando poi all'intetto per Asante. Gran sventola dei 20 metri con la palla che si stampa sulla traversa, ma sempre franzese, davvero opportunista, si avventa sulla sfera ed insacca il vantaggio tifernate. La gioia del Città di Castello dura solo due minuti perché l'immortale Frau, visto oltre a Telustri fa in Serie A con la maglia della Roma e da poca entrata al posto di Fideli, fa secco Cosimetti con un diagonale incrociato su sponda di Solinas per l'1-1 finale. I sassaresi falliscono il sorpasso al Muravera per entrare nel play-out, mentre i biancorossi di Fiorucci sono ora a cinque punti dal terzo-ultimo posto, a tre turni dalla fine del campionato. Per questo la retrocessione in eccellenza sembra oramai ad un passo in uno dei campionati più tormentati della storia della società tifernate, tra la farsa del reality show, una rosa rivoluzionata a campionati in corso, momenti di tensione plurimi tra giocatori o società per la questione rimborsi, tutti i fattori che hanno portato la squadra a non poter avere alcun equilibrio e continuità di prestazioni. Ha da tempo ottenuto la permanenza nella categoria invece il Trestina, che passa in vantaggio ma poi subisce la rimonta del Santo D'Oro in terra sarda. Fucede tutto nel primo tempo, si parte al diciannovesimo quando Saleppico sfrutta la sponda era di Merillini, controlla la palla al limite e batte corsi con un sontuovo destro in diagonale. Il Santo D'Oro non ci sta e replica la mezz'ora, quando in seguito ad un calcio piazzato, De Iana scodela una palla che Ibba polunga per Gentile, cross in mezzo per Giannetti che ha postato in solitaria in sacca di testa. L'1-1 galvanizzi Viola e soprattutto Capitano Ibba che al trentanovesimo ci prova col sinistro, palla murata e alzata in campanile. Il caparbe attaccante ci mette la testa sorprendendo nettamente Vadi sulla sua sinistra. Il Santo D'Oro resta così 5 punti avanti Muravera per quello che sarà quasi certamente lo scontro play-out, mentre il Trestina resta in decima piazza quota 42. 4 punti sotto il Sansepolcro, capace di fermare sul 1-1 al Buitoni, la capolista Arzachena, ora superata in vetta dal Monterosi. E parliamo di volley, Superlega, Bloc Devils al lavoro nel quartier generale del Palevangelisti, procede con cadenze regolari l'avvicendamento della Sir Safety Conad Perugia a gara 4 di semifinale. Scudetto che vedrà i bianconeri in campo al palazzetto dello sport di Pian di Massiano, mercoledì 19 aprile alle 20.30 contro la Diatec Trentino. Inoltre sempre più vicino il grande evento del Palalottomatica del 29.30 aprile con la Final Four di Champions League e la Sir, società organizzatrice in una semifinale tutta italiana, affronterà Civitanova, capace di schiantare tra zero Modena ieri sera nel ritorno dei quarti di finale. L'altra semifinale vedrà invece affrontarsi Berlino e i russi di Kazan. Stabilita definitivamente anche la sequenza delle due semifinali di sabato 29 aprile. Il primo match in programma alle 16.30 vedrà di fronte Berlino-Kazan, alle 19.30 Perugia-Civitanova. Basket B nazionale e maschile proverà a piazzare il colpaccio la Sicoma-Valdiceppo in piena lotta salvesta quando mancano solo i due turni al termine della regola season. Il quintetto di coach Pierotti, reduce dalla sconfitta di Sansevero, affronterà domani sera alle 21 al pala Celestellini, Lions Basket Bisceglie, una delle corrazzate del girone come dimora. Il secondo posto che in classifica due lunghesse dalla capolista Monte Granaro. Obiettivo dei ponteggiani è mantenere l'attuale quarta-ultima piazza in graduatoria con Sicoma pari punti con Isernia ma con la differenza canestri a proprio favore. Un piazzamento che consentirebbe a Valdiceppo di avere il fattore campo nei play-out salvezza che si disputerebbero proprio contro i molisani attesi domani sul parquet di Senigallia. Bene, con questo è tutto per l'informazione sportiva. Vi ricordo tutti gli aggiornamenti sul sito internet www.trgmedia.it per l'informazione in diretta. Vi aspetto domani mattina alle 7.30 con la rassegna stampa, con il nostro TG Mattino. A voi una cordiale buona serata. Grazie a tutti.